Giornata di Champions con tutte le squadre del Girone D che scenderanno in campo contemporaneamente. A questo punto, per come si sono messe le cose in classifica, la giornata può diventare decisiva. Non ci sono incontri di cartello con le tre big, Tenerife, Strasburgo ed Avellino hanno un turno abbastanza semplice. I bianco-verdi affronteranno in casa i montenegrini del KK Mornar, partita nella quale coach Sagripanti potrà far ruotare tutti i suoi effettivi approfittando anche della pausa di campionato che ci sarà nel corso del weekend prossimo. Gli Irpini cercheranno di stabilizzarsi al secondo posto anche se la seconda piazza non dà certezza di qualificazione diretta in quanto passeranno direttamente al secondo turno di eliminazione diretta le tre migliori seconde tra tutti i gironi. Partita in Serbia contro il Megalex per Slotar e compagni. Gli Slavi non sembrano poter preoccupare la squadra di Collè. Il Megalex inoltre si è privato il mese scorso di Zidic, quindi non destra grandi preoccupazioni. Turno più complicato per il Tenerife. Gli Spagnoli giocheranno in casa contro Stenda. La formazione di coach Vidorreta, prima in classifica, è la migliore e difficilmente perderà punti sul perché amico. Il pronostico quindi è totalmente a favore dei giocatori del Club Canarias, una delle migliori squadre dell'intera competizione europea. La Juventus-Tutena avrà invece l'impegno più complicato perché i lituani scenderanno sul campo della Drazen Petrovic Arena. Il Sibona non ha bell'età di qualificazione e gioca soltanto per onorare la Champions. Il Sibona non ha bell'età di qualificazione e gioca soltanto per l'intera competizione europea.